Ciao Cerris, se dovessi descrivermi con tre aggettivi direi solare perché sono una persona positiva, allegra, pigra perché come giusto che sia bisogna metterci anche un difetto e sono una pantofolaia e poi romantica perché giustamente vivo d'amore e scrivo d'amore. Una curiosità che forse non tutti sanno su di me è che lavoro come tour leader nel campo congressuale e specificatamente in ambito medico, per fortuna non sono ipocondriaca altrimenti sarei già impazzita e un'altra che forse già sapete che sono mamma di due bambini ma lo scrivo sempre nei ringraziamenti. Il mio rituale di scrittura comincia con il pc, bello aperto davanti, una tazza fumante di cappuccino per carburare e soprattutto i preziosissimi appunti nella mia agenda, è piena. La storia tra Stefano e Calista è nata di ritorno da un viaggio in Grecia, naturalmente, mi erano rimasti negli occhi i paesaggi, gli scorci, il colore del mare e volevo tenerli ancora un po' con me, il tutto condito con il mio romanticismo. La differenza d'età può essere sicuramente un ostacolo alla relazione perché come saggiamente dice Stefano i due partner sono divisi da passioni diverse, obiettivi, gusti e quindi è difficile camminare insieme e condividere la quotidianità. Ciò non significa che sia impossibile, non sono l'unica dimostrazione ai miei personaggi che quando si hanno passioni comuni e si trovano i punti d'incontro. Allora, viva l'amore! Grecia o Italia? Una domanda difficilissima, è un po' come chiedermi di scegliere tra i miei figli, però voglio dare comunque una risposta che unisce l'utile al divertevole perché dirò che scelgo l'Italia come patria in cui vivere e la Grecia come meta ideale per le mie vacanze. Arte classica contemporanea? Non ho dubbi, adoro l'arte classica, mi c'incanto sempre ogni volta e mi ricordo ancora la sensazione della nicche di Samotraccia sopra le scale del Louvre, un momento che non dimenticherò mai e quindi sicuramente sono con Stefano e Calista, viva l'arte classica! Questa è una domanda che mi fanno tutti quelli che leggono mia bellissima e cosa vi posso dire? Se lo sanno loro, non posso mica saperlo io, ma potrebbe esserci qualche sviluppo futuro e magari finalmente scopriremo il mistero. Grazie! 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 Grazie!